buongiorno oggi mi trovo in una cornice molto speciale sono alla cascina dell'uffo allo salsizio e per questa occasione ho scelto tre libri di cucina tre libri streme partirei proprio dal primo meraviglioso tutti i piatti dei presidenti qui ci sono lorenza rascalisi ha incontrato lo chef che per trent'anni ha cucinato e ha raccontato storie nelle cucine di palazzo del culinare sto parlando ovviamente di fabrizio bocca e domenico santa maria come avrete modo di vedere questo un libro che illustra la vita degli ospiti nelle bellissime sale della casa degli italiani quindi non solo per il presidente che ha fortemente questo progetto ma anche per tutti noi come secondo libro invece avrei scelto fleur di ottolendi che è sostanzialmente il terzo libro che chiude un po quello che è tutto il suo sapere ed è molto su come si scegliono si cucinano e si abbinano le verdure qui in compagnia appunto della collaboratrice che risente di tutte anche le varie tradizioni asiatiche quindi non solo italiane per ottenere il fiero il sapore migliore delle verdure e finirei con gribaudo cucina botanica carlotta pergo ci avvicina alla vita vegetale quindi non necessariamente vegana e vegetariana ma botanica sono ricette fresche facili ripetibili che ci avvicinano proprio all'autenticità delle nostre tradizioni alla prossima auguri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti